Andiamo a Milano adesso dove Simona Ventura ha presentato la nuova edizione del talent di Rai 2 The Voice of Italy. La nostra inviata è Bruna Fattenotte. Conduzione colorata, cast completamente rinnovato, una corsa in otto puntate alla ricerca della voce migliore tra 100 aspiranti talenti. Tutto è pronto per il ritorno martedì sul Rai 2 del talent show The Voice of Italy. Sarà un The Voice rivoluzionario, innovativo, moderno, ma con un occhio anche alla tradizione. Parola di Simona Ventura, padrona di casa della nuova edizione, presentata in una conferenza stampa show. In giuria sulle inconfondibili poltrone girevoli, un assortito poker di coach che vengono da mondi musicali diversi. Funziona questa miscela? Ci sono delle dinamiche che sono cangianti, ma in linea di massima ci sentiamo una famiglia. Dal veterano Morgan al rapper Ghe Pichegno, da Elettra Lamborghini, regina di hit sui social, al custode della tradizione melodica Gigi D'Alessio. Io cerco un talento che innanzitutto ami la musica, non viene a The Voice solo per avere un momento di visibilità televisiva o in cerca del successo. La musica si deve amare, poi se il successo arriva è qualcosa che si aggiunge. Non mancheranno sorprese e ospiti, non resta che vedere ed ascoltare.